Botti illegali di Capodanno da tre anni non più morti, questa è una buona notizia. Grazie zio, meno male, anche perché io insomma un occhio non l'ho perso, ma a causa di un petardo ho dovuto fare nove interventi, pensa, perché mi si è avuto il distacco della retina. Quindi ragazzi mi raccomando a Capodanno, invece di fare i botti che è una stronzata, andate al cinema. Dico ragazzi al giorno d'oggi poi ci sono anche questi che ce li hanno anche i nonni, che sono i telefonini, si fa i messaggi su whatsapp, su facebook, da tutte le parti. Divertitevi, al posto che fa un botto fate un tweet, è la stessa cosa, fa il botto uguale.